Al via lo svaro del ponte Belvedere, il sindaco Pierluigi Biondi, l'assessore alle opere pubbliche Raffaele Daniele, Marino Serpetti dell'impresa Todima e l'architetto Luca Carosi hanno voluto fare il punto della situazione documentando quello che si sta facendo mentre era in corso le operazioni stesse di svaro. Per il sindaco Biondi si tratta di un giorno storico per la città. Lo svaro iniziato oggi terminerà in quattro giorni, oggi il taglio della prima trave su via Fontesecco, poi quella su via 20 Settembre e via via le altre, poi una volta svarato si interverrà sul taglio delle mensole che partono dalle pile. Credo che sia una data storica per questa città perché la demolizione e ricostruzione di Ponte Belvedere è uno dei pochissimi esempi, insieme lo sarà Porta Barete, lo è l'auditorium del parco di Renzo Piano, uno dei pochissimi esempi di traccia lasciata della ricostruzione della città dell'Aquila che non si è andata oltre il restauro pur meraviglioso dei palazzi e la logica del com'era dov'era. Negli anni si sono concentrate su questa infrastruttura tesi, antitesi, opinioni fin tanto che grazie alla determinazione soprattutto del vice sindaco Raffaele Daniele, non è stata presa in mano la situazione, abbiamo fatto delle indagini approfondite, abbiamo fatto delle valutazioni puntuali sull'opportunità o meno del restauro della demolizione e ricostruzione e oggi ci siamo, credo che sarà un simbolo a lungo della città dell'Aquila. A maggio comunque indicativamente il ponte Belvedere dovrebbe tornare fruibile, per il sindaco questo sarà uno degli accessi più belli alla città. I lavori si stanno effettuando nella massima sicurezza, al momento gli abitanti del Civico 29 che vivevano nel condominio sotto il ponte Belvedere sono in strutture ricettive e nel piano case.